La transizione ecologica con il distillato di legno e il biochar Biodea, questo l'interessante tema del terzo workshop organizzato da Biodea e ospitato come sempre dall'Accademia dei Fisiocritici di Siena, in programma il 25 di marzo in presenza e da remoto. Tra le presenze istituzionali il sindaco di Civitella in Valdichiana Andrea Tavarnesi e l'onorevole Silvia Fregolent, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati. Nello scorso appuntamento era stata l'onorevole Ilaria Fontana, sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, a portare il suo saluto. È stato un motivo di grandissimo orgoglio, intanto per averla avuta presente con noi nella lettera che ha fatto leggere in sala, perché testimonia come anche lei condivide e siamo nella stessa tipo di filosofia ambientale e di sostenibilità ambientale. Ha citato da dove è importante ricevere le materie prime per ottenere poi dei prodotti finiti e lo facciamo ed è importante la sostenibilità ambientale nei fini di non immettere troppa CO2 e nel nostro processo addirittura andiamo a sequestrare le decarboniche, quindi siamo veramente nel giusto percorso. A maggio ci sarà anche la pubblicazione di questo lavoro che lei ricordava in collaborazione con l'Università. A maggio ci sarà un evento importante, molto importante, su un lavoro totalmente fuori dal settore agricoltura, abbiamo vinto un bando con l'Università di Siena, bando del Ministero Nazionale, dove questo bando prevedeva la ricerca applicando il distillato di legno per l'applicazione specifica per la salvaguardia dei monumenti e questo è stato fatto proprio nel Comune di Firenze e a maggio ci sarà la presentazione dei risultati scientifici che ha dato un risultato veramente importante per un altro tipo di applicazione del distillato che è l'eliminazione di muschie, licheni e agenti patogeni dai nostri monumenti.